Ciao, 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 ciao. Allora, è arrivato anche Bracco di Gracie. C'è il festeggio oggi Luna, mia figlia, il cinquantesimo, il cinquantesimo, il quinto, grazie, mi sembra già che è aperta da una vita, il quinto compleanno qui a San Giovanni Periceto del suo negozio di profumeria artistica Zozo. È venuta anche Jessica, mia figlia, sua sorella che l'aiuta, è venuta anche Morena. C'è chiaramente la musica, un bel po' di, un bel genzino. È incredibile la conoscenza che è l'una di tutti i prodotti. Quinto compleanno. Quinto compleanno. Quinto compleanno. Quintocriptions di ehmoli. Sì... Sì, è tutto quello che viene. Mia figlia all'improvviso ha aperto questo negozio, profumeria artistica, come lei lo ha chiamato, dove sono profumi diversi dal normale, fa una grande selezione, è diventata un'esperta, io non so come abbia fatto però... Ti faccio andare in casa anche e ti lascio lì qui, dopo ti fanno pescare tutto. Ma mi fai anche dei video col mio telefono? Dammi anche il tuo telefono, al limite dopo ti mando questo. Sì esatto, così lo taglio. Perché io non so fare i tagli però... Ecco non mi caga, vai. Grazie, alla prossima, ciao, arrivederci. Ciao Giovanni in Persiceto, bel paesino. Sì, ciao. Ciao Giovanni in Persiceto. Grazie a tutti.